Oggi per la prima volta nella storia della PixelCraft davanti ai nostri occhi abbiamo Mewtwo Boss Ultimate Ma non è un Mewtwo Boss Ultimate qualunque, quello là in fondo è un Mewtwo Boss Ultimate nella sua forma Shadow È ultra raro che già di base sponi un Boss Ultimate, ma quando spona nella sua forma Shadow Vuol dire che all'interno del mondo della PixelCraft potranno succedere tantissime cose E campioncini, benvenuti in questo nuovo episodio di questa serie Pokémon che tanto amate Lasciate un mi piace e iscrivetevi se siete nuovi, commentate con l'hashtag sonouncampione Scrivete nei commenti quanto state aspettando il giorno in cui vi insegnerò come giocare alla Pixelmon Perché vi assicuro ragazzi che voglio preparare un po' di cose carine per potervi insegnare a installare la PixelCraft e tante altre cose belle arriveranno Comunque, campioncini, partiamo in questo episodio eliminando Mewtwo Anche se nella sua forma Shadow Boss Ultimate, no ok, è troppo forte credo Stavo per dire, non credo che sia potentissimo, ma in realtà è devastante Elimina anche Tyranitar con questa facilità e semplicità? Cioè lui non prende neanche un pochino di danno, nulla Ok, mi sa che devo tirar fuori le maniere forti che vuol dire utilizzare il mio Eternatus Dynamax Non partiamo benissimo E dire da un po' che non mi facevo affiancare dalla mia squadra ufficiale Pokémon Che è composta da Eternatus Dynamax Shiny Kyogre Shadow Mewtwo Shadow Charizard Shadow Tyranitar Base Che si può anche mega evolvere E nell'alto dei cieli abbiamo Raikouasa Shadow Ora se nemmeno questa squadra riesce a ribaltare questo Mewtwo potrebbe essere un problema Però noi ci proviamo lo stesso Anche perché essendo Boss Shadow spero che abbia un drop importante Parto con Toxic Lui ragazzi ogni colpo ci toglie più di 300 di danno Ma avendolo avvelenato abbiamo già comunque la battaglia nelle nostre mani Con Eterna Beam dovrebbe fargli tantissimo danno E per colpa dell'avvelenamento arriva fino a più di metà vita Il mio Eternatus è stato eliminato Ma come volevamo noi già cambiando squadra abbiamo ribaltato la situazione Kyogre è stato distrutto in un colpo solo Il mio prossimo Pokémon con più vita è il mio di Mewtwo Shadow Che però non credo abbia la stessa mega pietra Proviamo giusto per correttezza Sì Ha la stessa mega pietra Il problema è che è esattamente la metà di grandezza rispetto a questo Mewtwo Shadow Particolare come cosa Ma noi andiamo a colpirlo Vediamo se la facciamo Si rimane con pochissima vita E lo abbiamo eliminato Una sola caramella rara Ma solamente questo Non ho veramente parole Sono super deluso Dopo aver ricurato la mia squadra Il mio obiettivo è ora riprendere tutte quante le ghicocche gialle Che ancora non ho cotto Perché ho finito praticamente tutte le mie Ultra Ball Ed essendo che in questo episodio andremo ancora in esplorazione Ho bisogno di sistemare un attimino il mio inventario Potrei craftare anche delle Dusk Ball Perché in questo momento ne ho solo 33 Ma l'importante sono le Ultra Ball Perché ne abbiamo solamente 20 Dato che qualcuno è entrato all'interno del mio mondo E si è rubacchiato tutte quante quelle che avevo da parte Mega Pokémon qua attorno non ne vedo Di conseguenza posso entrare all'interno della mia zona delle fornace E mettere un po' di ghicocche a cuocere E dividerle per bene Per ogni fornace Dato che ho praticamente quasi ultimato e terminato Tutto quanto il cuo al che ho a disposizione Magari questo lo dividiamo Lo mettiamo da questo lato Almeno siamo giusto un po' più divisi Mentre attendo vado da questo lato All'interno di questa casa Per prendere pulsanti e basi di ferro Così da inserire già all'interno del mio inventario E sono giacche pronte Ghicocche nere ne abbiamo veramente tante E queste basi qua di Ultra Ball Non sono mie ma di loco Tecnicamente che sta giocando un po' All'interno del server Quindi non gliele voglio assolutamente rubare Quello che otteniamo in tutto Sono tante Ultra Ball Più di uno stack No in realtà no neanche Quasi uno stack 44 vanno assolutamente bene Anche perché ricordiamoci Che andranno tutte quante cotte e pressate All'interno delle meccaniche Envil Quindi dividiamo ogni singola cosa per bene Ogni tanto questa casa è invasa da Pokémon Non so il motivo Ma il motivo di questo episodio invece Lo andiamo a scoprire subito Andando a parlare con Kudz Che ci spiega Hai sbloccato un nuovo dungeon Ma attenzione è illegale entrarci I Pokémon al suo interno saranno terribilmente potenti Solo una squadra speciale è ammessa Quindi dobbiamo costruire una squadra Solo di Pokémon speciali Per entrare all'interno del dungeon In realtà io oggi vorrei tenere il mio team Ma il mio team l'unico Pokémon che non è speciale È Terranitar perché ha la sua forma base Abbiamo Eternatus qua che è Shiny Kaiogre Shadow Charizard che è Shadow Mewtwo Shadow E Requaza Shadow Io metterei a questo punto anche i Veltal Però giusto per cambiare un pochino Inserirei un Pokémon che ho catturato ultimamente Che può essere questo Gengar Maledetto che mi piace veramente tanto Questi 44 dischi Andranno costruiti in questo modo Con queste 48 basi Per creare tantissime Ultra Ball Ah siamo già arrivati a uno stack perfetto Ottimo E metto tutto quanto il resto Qua sotto a disposizione di altri Ora il nostro unico obiettivo Qui è andare in esplorazione Perché ci è stato detto che abbiamo sbloccato Un nuovo dungeon Ma non sappiamo dove E credo dopo più di mezz'ora di esplorazioni Di averlo trovato Uuuuh Fermi tutti Ma questo qua è un OO speciale E infatti qua sotto c'è la dicitura Boss Ultimate Ma sfidiamolo subito questo dungeon E infatti ragazzi leggiamo assieme Il dungeon lo shrine Quindi il monumento dei Pokémon illegali Però parte con Eternatus Dynamics Ok strana questa storia qua Allora facciamo così Partiamo avvelenandolo Non posso Ok molto male Vado di Eterna B Ma almeno gli faccio un po' di danno E lo raggiungiamo a vita quasi rossa Vabbè ragazzi Non capisco perché sia Dynamics Credo che sia un bug Per farmi vedere una versione di Eternatus Che in realtà poi non è uscita Solitamente si bugga ogni tanto così La Pixelmon con i Pokémon ragazzi E' successo anche in tanti altri episodi Della Pixelcraft Abbiamo eliminato Eternatus Di Alga Invisibile Però è il di Alga nella nostra versione Shadow Infatti vediamo qua in alto l'icona Cosa sta succedendo? Vabbè vado ancora di Ice Beam Ma mi ha disintegrato Kaiogre Ok è arrivato il momento di Mega Evolvere Il mio Rayquaza E andare di oltraggio Perché se no questo di Alga Non so come lo potremmo fermare Proviamo a colpire per primi Io lo spero fortemente Ce l'abbiamo fatta Mi ha shottato Rayquaza Ok ragazzi Situazione difficile Metto in campo Charizard Che purtroppo ha pochissima vita Solo 275 punti vita Per sacrificarlo un po' Per mettere in campo Eternatus Almeno credo che sia l'unico Pokémon Che potrà liberarci dal Dialga Spero Ma neanche questo Ok questo Dialga è pauroso E devo utilizzare il Mewtwo Per rifare la stessa cosa Delle Eternatus di prima E quasi quasi Essendo che lui mi attacca Lo colpisco con Psy Strike Ragazzi mi ha shottato anche Mewtwo Con un colpo Questo Dialga è mostruoso Ok Devo riportare in vita un altro Pokémon Che può essere ancora Rayquaza Gengar ha resistito A questo punto Sfrutto un altro turno Per salvare la vita anche del mio Kaiogre Gengar ci ha abbandonati Metto in campo Il mio Eternatus E con Dynamax Cannon Lo vado a eliminare Meno male Questo Dialga Shadow Era devastante In campo Ora è sceso Moltres di Galarian Wow Ora Lo avveno subito Almeno sono sicuro Di colpirlo nei prossimi turni E vado di Eterna Beam Per fare del danno Un po' di danno L'abbiamo fatto E grazie all'avvenenamento Qualcosa l'abbiamo fatto Ma continua a ricaricarsi la vita A me questa cosa qua non piace Forse Ricaricando la vita Del mio Gengar Potrei utilizzare delle mosse Che sono super efficaci Tramite Gengar E a questo punto Lo utilizzo Perché tanto questo Moltres Sembra che si possa solo Ricaricare la vita E vado di Shadow Ball Vediamo se riusciamo a fare qualcosa Pochissimo in realtà Comunque l'abbiamo eliminato Grazie all'avvenenamento In campo è sceso Alla Kazam Nella sua versione speciale Classica Ma che Ok Questa squadra qua è incredibile È proprio assurdo Vederti ciò Io rimetto in campo Ancora Eternatus Che sembra un po' Il tank della situazione Per avvenenare Alla Kazam E ha preso anche lui Tantissimo danno Mamma ma questi Pokémon Avversari sono veramente Illegali Perché ci tolgono 200 E passa 230 a questo giro Ragazzi Ti danno i miei Pokémon Vado di Dynamics Cannon Per vedere se qualcosa Riusciamo a fare E infatti l'abbiamo portato Quasi a vita rossa Il mio Eternatus Sta per morire Io a questo punto Continuo a ricaricare la vita L'effetto dell'avvenenamento Farà il suo corso Infatti con la prossima cura Dovremmo andare Tranquillamente In banca E vincere questa sfida Con la Kazam Ottimo Il prossimo avversario È Oh Oh Quindi in questa versione Illegale Che andrò a avvenenare Pure lui Mi ha bruciato Eternatus Fastidioso che non sai altro Vado di Dynamics Cannon Niente ragazzi Purtroppo nulla A questo punto Io metterei in campo Kaiogre Che è super efficace Contro Oh Oh Tramite le mosse Di tipo acqua Vediamo se riusciamo A eliminarlo Quasi Sì ce l'abbiamo fatta Oh no Sheptile Illegale È bellissimo In questo momento Mi servirebbe Un Pokémon Come Charizard Quindi ricarico la vita E lo sta pure Mega evolvendo Però a differenza Del Mewtwo Che nella sua versione Shadow Mega Rimane Shadow Qua Sheptile È tornato normale Interessante come cosa Vado di droppomba Ma ovviamente Non sono neanche Riuscito ad avvicinarmi Ho però il mio Charizard Che posso utilizzare Con Flare Blitz Per essere super efficace Vediamo se riusciamo a bruciarlo No Non ce l'ho fatta Essendo che lui Mi attaccherà per primo Faccia così Cura la vita del mio Eternatus Perché dovrebbe avere Il lanciafiamme All'interno delle sue scelte Osserviamo E infatti è così In questo modo Andrò di essere super efficace E qualcosa riuscirò a fare Anche se io ho La bruciatura di prima Che mi sta dando Molto 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 fastidio Però credo che in questo dungeon Questo Sheptide Sia l'ultimo Pokémon Scopriamolo Ok abbiamo vinto la battaglia Infatti Ottimo Ok non c'è più Oh qua sopra Che sta scappando via Devo prendere il mio Rayquaza E questa volta Non posso lasciare scappare Un Pokémon ragazzi Quindi prendiamo anche Eternatus Glielo scaraventiamo contro Metterà la mia squadra Delle catture Ma purtroppo ragazzi Sarà impossibile Da utilizzare Per questo motivo Metti in campo Subito Rayquaza E Lo colpisco Con Rayquaza stesso Vado di Extreme Speed Che un po' di danno Glielo può fare Per me l'importante È portarlo a vita rossa Poi proviamo a catturarlo Con noi abbiamo tre Master Ball E sarebbe bello Utilizzarla Per catturare Un Pokémon illegale Una Ball quasi illegale Per un Pokémon Quasi illegale Osserviamo la Ultra Ball Qua in fondo Due giri No neanche il terzo giro Dannata Teo Che sfortuna Non aver messo Il mio Mew classico Per poterlo portare A uno di vita Però ragazzi Purtroppo è difficile Proprio da catturare La Ultra Ball La Ultra Ball Arriva fino in fondo Cade Poi esce subito Il Pokémon Cosa che noi non vogliamo Io quasi quasi Essendo che praticamente Non abbiamo più una squadra E Attenzione Perché se io attacco Con Eternatus Perdo No non posso Ragazzi Fermi un attimo Non posso Non utilizzare la Master Ball Vi spiego perché Ora Se io colpissi lui O utilizzassi una Ultra Ball E lui non entrasse Eternatus Per colpa della bruciatura Morirebbe In questo modo Oh oh uscirebbe Della battaglia Perché ho finito Tutta quanta La mia squadra Pokémon E se io tornassi a casa Per cambiare la mia squadra Nel PC O curare questa Lui potrebbe Despawnare Quindi Sono costretto A utilizzare Una delle mie Master Ball Per catturare Questo Pokémon Leggendario Illegale Abbiamo Catturato Oh oh Che si trova All'interno Di quale box Eccolo qua Ma che bello Che è ragazzi Però Andiamo a scoprire Le sue potenzialità Solo nel prossimo episodio Noi campioncini Ci fermiamo qua Spero che questo video Vi sia piaciuto Scegliete quello qua davanti Rimanete sempre sul mio canale Per guardare Tutti quanti I miei bellissimi video Ciao